E' generoso Bottigliero, sindaco di Castiglione del Genovese, il nuovo presidente della comunità montana dei Monti Picentini. L'accordo sul nome è arrivato dopo una serie di incontri fra gli amministratori dei sette comuni dell'ambito, che all'unanimità hanno scelto di indicare Bottigliero. Suo vice sarà Davide Coralluzzo, consigliere comunale di Monte Corvino Rovella, mentre l'assessore sarà Gennaro Aievoli, sindaco di San Cipriano Picentino. La nomina ufficiale della nuova giunta sarà ratificata dal Consiglio Generale, da convocare di qui a qualche giorno.